ops è caduta ciao io e bianca stiamo seminando dei semi di fiori broccoli e anche i broccoli sì 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 affinché le piante crescano serve l'acqua sì o la papirella annaffiatoio avanti avremo dei bei fiori gialli e viola e i broccoli cosa possiamo mangiare per colazione fit cookie fit cookie ottimo allora dobbiamo andare a comprare il latte portiamo anche cioccolata sì chiamiamola bianca ci pensi tu sì pronto cioccolata come va noi stiamo uscendo noi stiamo uscendo andiamo buah devo lavarmi i denti buah grazie per l'aiuto bianca ancora mettiamo altro dentifricio che buono questo dentifricio ti sei lavata i denti oggi sì brava adesso devo lavarmi la faccia apri il rubinetto che bello e devo pettinarmi le orecchie si fa davvero in fretta quando mi aiuti ah sono pronta andiamo a prendere il latte a te andiamo a prendere il latte andiamo a prendere il latte al supermercato con questa grande macchina blu dov'è il seggiolino di bianca qui siediti ora leghiamo tè e cioccolata ok prima bianca e poi cioccolata oh no e mi è caduto il collare oioioi 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 ecco fatto siamo pronte bianca pronte adesso anche la mamma è pronta andiamo Cioccolata non vede niente Mettila vicino al finestrino Ci vedi? Wow, com'è interessante guardare fuori! Wow, siamo arrivate? Non ancora Stiamo ancora guidando Cioccolata Ha capito E no Cioccolata Non siamo ancora arrivate Wow, wow Perché non ci stiamo muovendo più? Siamo arrivate? Sì No, c'è il semaforo rosso Adesso è verde Adesso siamo arrivate Ok ragazze Scendiamo Il supermercato Aspetta Bianca Presto, presto, presto Corriamo al supermercato Ecco l'entrata Andiamo Muoviti mamma Veloce Possiamo girare per il supermercato Con una macchinina Chiudiamo la portiera E andiamo Dov'è il latte? Latte? No, sono bicchieri È latte questo, Bianca? Latte? No No, sono dei panini Sì Sì Bianca, proviamo la macchinina gialla adesso Ok Al parcheggio Apriamo la serratura Chiudiamo la portiera E la serratura E via Inversione Mi piaceva di più quella rossa Cioccolata 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 La serratura La serratura Andiamo a prendere il latte ora Sì Sì Abbiamo trovato la corsia del latte Quanto latte Esci, Bianca Dobbiamo mettere il latte nel carrello Quale ti piace di più? Quello con la mucca? Mu 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 Ecco Uno Due Tre E quattro Sono abbastanza Bianca Torniamo nella macchinina Torniamo nella macchinina Dobbiamo andare alla cassa In cassa Ora a sinistra A sinistra A sinistra Abbiamo pagato tutto Con delle monetine Il latte Il latte sarà buonissimo Con i biscotti Per favore Andiamo a prendere i biscotti Bianca Ops La portiera si è aperta Adesso siamo in un bar Diamo una pulitina Diamo una pulitina al tavolo Prendi una salviettina Bianca E ora ci puliamo le mani Adesso possiamo mangiare Assaggia Bianca Ti piace? Scotta No Non scotta È caldo L'hanno scaldato Vuoi il latte? No grazie Allora lo diamo a cioccolata E tu puoi continuare A mangiare il biscotto Il latte è buonissimo Com'è il biscotto? Buono anche lui Anche io prendo il latte E' divertente Andare al supermercato Insieme E tu? Aiuti tua mamma A fare la spesa? Ricordati di aiutarla E di guardare I nuovi video Sul nostro canale Ciao Bianca Saluta Ciao 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 Buon 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 bu